Caperi, sul nostro territorio sono strategici gli impianti di risalita. Parliamo di attività che da anni tuttavia sono in sofferenza. Cosa state pensando di fare? È un tema che purtroppo in negativo tocca tutta la Lombardia. Anche stazioni scivistiche molto rinomate soffrono dello stesso problema. Queste infrastrutture molto costose hanno bisogno di continua manutenzione. Come investimento sono sostanzialmente non remunerabili con l'attività ordinaria. Insieme al sottosegretario Parolo, in più di una circostanza, stiamo valutando come Regione Lombardia di proporre, sapendo che è un percorso molto complicato, una soluzione dal punto di vista societario che permetta di far diventare sostanzialmente di Regione Lombardia la proprietà dell'investimento, in modo tale da poter alleggerire il coinvolgimento di Finlombardia, da questo punto di vista potrebbe essere utile, il costo e il peso finanziario di questi impianti. E' noto, credo a tutti, che le stagioni sempre più complicate per una neve sempre meno frequente devono comunque essere mantenute in attività diversamente. Non vi è nessuna possibilità di sviluppo economico per l'attività turistica. E' una riflessione che, se anche a fine legislatura può risultare difficile, credo che valga la pena e venga approfondita. C'è una grande disponibilità, una grande attenzione e l'idea potrebbe anche essere quella di una grande holding regionale che riassume in sé le partecipazioni di tutte queste società. Ci stiamo lavorando e speriamo di risolverlo.